Allora, mi scuso intanto con le presenti e anche con le persone che ci stanno seguendo in collegamento streaming perché abbiamo avuto dei problemi tecnici, purtroppo non sappiamo come risolverli perché se non arriva un tecnico non è possibile risolverli. Quindi provvederemo a inviare a tutte le presenti, anche a quelle che sono collegate, a quelli che sono collegati, anche tutte le slide delle relatrici. Vediamo come riusciamo a sistemare. Allora io, per chi non mi conoscesse, sono Micaela Faggiani, sono la Presidente del Cantiere delle Donne, nella vita faccio la giornalista, ma questo è tra parentesi in questo momento. Siamo al terzo incontro di Fate le Brave, un percorso che stiamo facendo, e con le donne soprattutto, dedicato all'educazione finanziaria perché abbiamo capito e pensato che questo è la base per prevenire altri tipi di violenze. Per tanti motivi. 19 relatrici o relatore si sono messi a disposizione gratuitamente per raccontare dal loro punto di vista questa problematica. Oggi vi vogliamo parlare di come risparmiare e come guardare al futuro. Prima devo dire solo un paio di cose tecniche. Questo corso sta andando veramente molto bene, tanto che vi faccio uno spoiler detta da giovane. lunedì io sarò a Bruxelles, al Parlamento Europeo, e presenterò il progetto, perché ci hanno chiesto di portare il progetto come best practice anche a livello europeo e di portarlo nelle scuole l'anno prossimo e di farlo girare tutto il Veneto. Questo grazie anche alla Camera di Commercio e a Neon Camera del Veneto che incontreremo proprio a Bruxelles. Saremo io e Francesca che la ragazza sta facendo le riprese, che è la tirocinante del cantiere delle donne, nonché una studentessa. E quindi questa era una cosa bella, vi racconteremo che cosa portiamo a casa. Spero tante belle cose, al prossimo incontro ne sapremo qualcosa in più. Per chi non l'avesse fatto il 14 di dicembre, se volete, se non avete milioni di cene, c'è anche la cena di Natale del cantiere, la faremo a Villa Italia, circa per un centinaio di persone. Ci sarà una special guest, vi racconteremo le ultime novità, compreso Bruxelles, e faremo parlare alle donne, anzi chiederemo a tutte le donne presenti se hanno dei progetti, delle reti, delle cose da condividere con noi. E ci sarà una lotteria di beneficenza per il cantiere, abbiamo deciso quest'anno, dopo aver fatto tanto beneficenza per gli atti, di aiutarci, perché i progetti sono tanti e noi ci autososteniamo. Tante persone, le devo ringraziare di cuore, ci hanno sostenuto e hanno deciso di donarci chi servizi, chi ha beni, tante cose belle, vedete, ci sono gioielli, ci sono buoni dall'estetista, ci sono vineo, ci sono... Che cosa c'è poi di bello? Un sacco di roba che è lì fuori, poi trovate tutto sui social, se volete ci sono anche i biglietti, costano 5 euro all'uno e potete acquistarli, poi dopo l'estrazione che faremo il 14 di dicembre, il 15 sarà online e ve lo manderemo anche via mail, quindi questo è quanto. C'è sempre il nostro libro che è La scelta gentile, che racconta un po' l'avventura del cantiere, ma mi pare di aver detto tutto. Devo sempre ringraziare l'ordine delle psicologhe e delle psicologi del Veneto, che è con noi anche questa sera, tratto con il presidente, che dov'è che non lo vedo più? Eccolo lì in fondo. E non solo, ovviamente con Federica, che è il segretario dell'ordine, nonché nostra relatrice, poi avremo uno psicologo, che è Enrico Rubaltelli, che appunto farà anche il suo intervento insieme a Roberta Sgreva, consulente finanziaria, insieme a Marianna Martinoni, la nostra esperta di fundraising. Ci doveva essere Elena Morello, che è la presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova, ma ha avuto un incarico nazionale proprio in questo settore, quindi è scesa a Roma, ci aveva ovviamente fatto il suo intervento online, che ovviamente è causa di forze maggiori, forse non riusciamo, io dico forse perché sono speranzosa. Detto questo mi sembra di aver detto quasi tutto, ovviamente chi volesse iscriversi al cantiere delle donne è possibile farlo, sono 10 euro all'anno di iscrizione, ovviamente si va già al 2023, è possibile farlo online. Detto questo mi taccio perché voglio iniziare chiamando qui Vincenzo Gottardo, che è il vicepresidente della provincia di Padova, come sapete fate le brave al patrocinio di regione, comune, provincia e camera di commercio, il primo incontro c'era il comune, in questo nostro incontro abbiamo la provincia Vincenzo, che è tra l'altro un amico, è venuto alle nostre cene, conosce bene il cantiere, e gli lascio la parola, tu c'eri anche al nostro lancio dell'iniziativa, ne abbiamo fatte di strada. Ciao Micaela, buonasera a tutti, io sarò breve perché dobbiamo recuperare il tempo di questo piccolo disagio che purtroppo il comune mi ha chiamato dicendo che il tecnico non è in servizio e per cui non possono intervenire, è una colpa che si assume il comune e dicono che è una cosa anomala, probabilmente è un problema di lettura, mi dicono, tra questo pc e il sistema della sala. Altre motivazioni perché mi hanno detto, il comune dicono che fino a ieri sera qui non c'era nessun problema. Io riporto perché noi siamo provincia, quindi ecco, per cui io riporto. Detto questo, velocemente per salutare il cantiere delle donne, che posso dire di aver visto nascere, perché in piena pandemia seguivo il cantiere, ho visto poi il divenire del cantiere, io so che sono da tecnico, da architetto, sono affascinato proprio dal nome che ha questa associazione, perché il cantiere delle donne è qualcosa che è in evoluzione, che continua a evolversi, a crescere e voi lo dimostrate ogni volta. Mi complemento per l'attualità dei vostri temi, dei vostri contenuti e voi toccate con mano veramente la vita delle donne, per cui questo è di riflesso ovviamente anche la vita di noi uomini. Quindi questa è una grandissima ricchezza, il contenuto di questa serata è molto interessante, tanto io lo conosco per sommi capi, ma vi faccio i complimenti. Spero che la stessa vitalità e la stessa qualità siano caratteristiche che vi accompagnano e che ci accompagnano anche per il 2023. So già di qualche vostro progetto, ho parlato anche ieri sera al telefono con Elena, che mi aveva già anticipato che stasera non c'ero, so qual è il livello del programma 2023, per cui vi faccio un grande bocca al lupo e desidero veramente essere sempre parte del vostro lavoro, perché anch'io mi sono arricchito, anch'io sono cresciuto grazie a voi. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Vincenzo, provvederemo a sentire il comune e cercheremo di rifare anche questa serata con tutte le slide. E approfitto solo per dire che sabato, per chi vuole, saremo al liceo Nievo, è la giornata del volontariato e saremo lì tutta la mattina incontrare le ragazze e raccontare il cantiere delle donne. Come diceva Vincenzo, c'è anche un altro progetto molto grosso in cantiere che riguarda la politica, ma non vi dico nulla, perché di questo ne parleremo e ne sentirete parlare. Detto questo, io voglio, se vedete c'è Empower Med, questa sera abbiamo deciso perché il cantiere è fatto di reti, è nato come rete, vuole continuare a fare rete con altre reti e molto spesso le donne ci chiamano e dicono ma guarda abbiamo questo progetto molto interessante, facciamo insieme? Sì, la nostra risposta è quasi sempre sì, per questo appunto Laura mi aveva contattato, poi ho conosciuto Rose, loro hanno un bellissimo progetto che riguarda Padova, all'interno di un progetto europeo, riguarda le donne in particolare, riguarda un tema molto caldo, che è quello del risparmio energetico in questo momento. quindi lascio a loro la parola e poi la riprenderemo. Grazie, Michela. Sì, appunto, innanzitutto ci tenevamo a ringraziare il cantiere delle donne per questa opportunità adataci. Io sono Rosa Ortolani, ingegnere ambientale, insieme alla mia collega, la dottoressa Laura Bano, facciamo parte di Sogesca. Sogesca è un'azienda, o meglio uno studio di progettazione, di ingegneria, che si occupa di ambiente, di qualità, di sicurezza, e che lavora dall'86 in questo ambito e segue parecchi progetti europei. Tra i vari progetti europei che stiamo seguendo, questo in particolar modo si chiama Empowerment, ed è sulla povertà energetica. Ci tenevamo a dire che, appunto, questo non è un progetto nato in questo momento a causa delle necessità di questo momento esattamente storico, ma è già da tre anni che viene portato avanti, ed è un progetto sulla povertà energetica, rivolto in particolar modo alla popolazione, quindi non ai tecnici, e con un focus sulle donne, sulle donne dell'area del Mediterraneo, che sono quelle che, purtroppo, sono più soggette alla povertà energetica. Come concetto di povertà energetica non c'è una vera e propria definizione, però si verifica quando una famiglia, un individuo, non riesce a raggiungere un livello minimo di consumi energetici nella propria abitazione, di disponibilità energetica, e anche di comfort energetico, in particolar modo dovuto a una carenza, appunto, economica, ma anche a una carenza di conoscenza. Quindi le famiglie che sono affette da povertà energetica non riescono ad avere un adeguato accesso ai servizi energetici essenziali, oppure hanno delle spese energetiche che sono sproporzionate ai loro ricavi, oppure, diciamo, non stanno in un ambiente che è confortevole dal punto di vista energetico e della temperatura, perché non sono a conoscenza di piccoli accorgimenti che andremo a delencare più amanti. L'obiettivo generale del progetto è contribuire alla riduzione alla povertà energetica nelle aree del Mediterraneo. Ci sono varie aree pilota, tra cui Padova per l'Italia, Marsiglia, Barcellona, Valona, Zara e Capodistria, insieme a vari partner europei. Come obiettivi specifici, appunto, del progetto abbiamo l'attuazione di misure pratiche di efficienza energetica verso famiglie in povertà energetica, in particolar modo con questo focus sulle donne e sulla salute, per valutarne l'efficienza e l'impatto di tali misure e formulare delle raccomandazioni politiche che possano agire contro la povertà energetica sia a livello locale che anche a livello europeo. Infatti, l'anno prossimo andremo, appunto, anche noi al Parlamento europeo per cercare di portare avanti queste azioni di advocacy, di mitigazione della povertà energetica a livello europeo. Azioni di progetto, quindi, sono l'analisi della città pilota e il coinvolgimento degli attori legati alla povertà energetica, la formazione degli attori, cioè delle cooperative, delle associazioni che hanno a che fare con queste persone solitamente più vulnerabili energeticamente, quindi il coinvolgimento dei cittadini e infine queste azioni di raccomandazioni verso i politici. Abbiamo individuato inizialmente, ancora tre anni fa, tre gruppi di vulnerabili energetici, tra cui gli anziani sopra i 74 anni, le famiglie richiedenti sussidio al comune per il pagamento delle bollette e i genitori single con figli a carico. In realtà, come si può vedere è sotto gli occhi di tutti come l'attuale situazione geopolitica internazionale abbia peggiorato la situazione per i poveri energetici, però ne abbia decisamente ampliato la platea, quindi possiamo un po' considerarci tutti come vulnerabili energetici. Che cosa si è fatto e cosa andremo a fare? Abbiamo fatto, attraverso delle cooperative, delle visite a domicilio alle famiglie per fare un audit energetico, valutarne i consumi e come migliorarne il comfort e farle spendere meno. Abbiamo dato loro anche un kit che poi vi faremo vedere. Grazie mille. Dopodiché abbiamo fatto dei workshop, quindi incontri con la cittadinanza, workshop e anche quelle che si chiamano assemblee collettive che in Spagna sono molto di attualità, in cui si sono affrontati vari temi, tra cui appunto le letture delle bollette e la scelta dei vari fornitori. quindi come evitare questo marketing aggressivo e come trovare il giusto contratto che serve in base alle nostre esigenze. Poi altri workshop erano indirizzati all'incentivazione disponibile. Adesso appunto con il nuovo governo ci sono state delle variazioni, però comunque ci sono ancora le incentivazioni, quindi un workshop è dedicato a questo. e un altro workshop è stato sulle implicazioni sulla salute, quindi la relazione tra la povertà energetica e la salute e infine un workshop sulle misure a basso costo per il risparmio energetico. Infatti a proposito di questo ultimo workshop volevo mostrarvi il kit che diamo alle famiglie energeticamente vulnerabili per farvi capire di che cosa parliamo. sono diciamo dei dispositivi banali che tutti abbiamo che però magari non sappiamo non dico come utilizzare ma come come ci fanno risparmiare. Ad esempio la ciabatta è importante che abbia l'interruttore perché così possiamo attaccare tutti i dispositivi alla ciabatta a parte essere anche più sicuri dal punto di vista proprio della sicurezza della casa possiamo con un unico gesto spegnere l'interruttore e evitare tutti gli stand by dei vari elettrodomestici per dire e già quello è un piccolissimo risparmio. Dura naturalmente passare alle lampadine a led perché le lampadine a led fanno ridurre di circa l'80% il consumo di elettricità rispetto all'incandescenza ma anche l'alogene. Dopodiché interessante d'inverno è questo pannello riflettente è un banale pannello che si inserisce dietro i termosifoni di case soprattutto che hanno una certa età e che hanno i termosifoni che danno ad esempio alle pareti esterne e questo evita che il calore venga disperso esternamente e quindi restituto all'interno. Un'altra cosa è il riduttore quindi l'aereatore da installare nei rubinetti anche quello fa risparmiare un 30% di acqua quindi come potete vedere sono tutte cose che possono essere banali e piccole quindi le chiamiamo appunto soluzioni semplici a basso costo che però possono essere intraprese da tutti e che nel lungo periodo danno un risparmio risparmio e comfort perché si vive meglio naturalmente queste sono pillole nel nostro workshop dedicato alle soluzioni a basso costo parleremo di varie altre soluzioni da applicare in casa ed è per questo purtroppo non va lo schermo ma possiamo con la vecchia carta far passare un foglio in cui c'è un QR code voi lo inquadrate col telefono e rispondete a un brevissimo questionario sono sette domande in cui vi chiediamo quali sono gli argomenti che più vi piacerebbe affrontare in eventuali altre assemblee collettive chiamiamoli anche workshop potete addirittura arrivare con dei problemi legati alla vostra quotidianità ad esempio delle bollette o altro e noi cerchiamo di rispondervi se fosse il workshop dedicato alle bollette oppure come risolvere piccoli problemi casalinghi non lo so legati anche all'utilizzo degli elettrodomestici in casa ad esempio quindi quello che volevamo dire è che sembrano tutte cose banali ma secondo noi almeno dall'approccio che abbiamo visto e che abbiamo avuto in questi anni con la popolazione la povertà energetica si può tranquillamente combattere non solo con i sussidi economici ma soprattutto con la conoscenza è il primo step per tirarci fuori da questo impasse che provoca un disagio noi abbiamo finito io volevo nuovamente ringraziare il cantiere per questa opportunità stiamo facendo appunto circolare il QR code su un foglietto di carta perché per i problemi tecnici che abbiamo avuto non riusciamo a fare diversamente e siamo a disposizione per organizzare altre serate per la cittadinanza appunto sulle tematiche delle incentivazioni per risparmio o delle piccole soluzioni a costo zero per risparmiare o della lettura delle bollette o anche di come diciamo così gestire dal punto di vista della salute delle situazioni di povertà energetica e ancora grazie per questa opportunità allora ci dovete scusare questa sera perché stiamo lavorando un po' come dire quello che ci viene un po' in mente di fare perché non avendo la struttura per proiettare le slide stiamo un po' lavorando a braccio come si dice Marianna allora abbiamo pensato se annullare completamente oppure darvi una sorta di introduzione a quello che sarebbe stato l'argomento dei nostri tre interventi sperando che ci sia una seconda occasione per poter fare l'intervento come l'avevamo pensato a me sarebbe toccato il compito di farvi un piccolo cameo su un tema che in qualche modo è collegato alle donne e a che fare con la presenza delle donne anche all'interno del terzo settore a che titolo vi avrei fatto questo cameo io mi occupo di accompagnare organizzazioni del terzo settore quindi organizzazioni non profit associazioni fondazioni e organizzazioni che operano in vari ambiti del terzo settore e le sostengo le aiuto nel creare dei percorsi di sostenibilità attraverso il coinvolgimento di donatori privati aziende e fondazioni quindi mi occupo sostanzialmente di quella che viene chiamata la raccolta fondi accompagno le organizzazioni nel costruire delle strategie di raccolta fondi a 360 gradi e spesso mi capita effettivamente di avere a che fare con organizzazioni all'interno del terzo settore che sono in gran parte composte da donne e quindi il mio intervento sarebbe stato con dei numeri abbastanza interessanti che dimostrano come effettivamente all'interno del terzo settore la presenza delle donne sia prevalente un po' se volete per il tipo di ambito di temi di cui spesso le organizzazioni non profit si occupano che vanno quindi dall'assistenza sociale all'welfare alla sanità all'ambiente alla conservazione del patrimonio quindi in realtà diversi ambiti ma anche un po' per se volete una serie di caratteristiche che il terzo settore ha che rende effettivamente questo ambito più attraente anche dal punto di vista del lavoro femminile anche su questo vi avrei fatto vedere che purtroppo non mancano le disparità di genere e che quindi purtroppo nonostante le donne siano molto numerose all'interno del terzo settore vado a memoria su 800.000 occupati in questo ambito 750.000 sono donne però se andiamo a vedere poi i vertici delle organizzazioni del terzo settore spesso purtroppo le donne mancano l'altro affondo che vi avrei fatto è ancora di più su una figura che diventa sempre più indispensabile all'interno del terzo settore che è chi all'interno dell'organizzazione no profit si occupa del reperimento dei fondi e quindi dati ancora più interessanti che ci dimostrano come la figura del fundraiser o della fundraiser sia una figura che sta prendendo sempre più consapevolezza in Italia e che ci dimostrano che 75% dei fundraiser italiani sono donne con come dire una serie di riflessioni interessanti sul perché e come mai le donne arrivano a fare questo mestiere che è non solo come dire collegato a trovare fondi risorse economiche ma soprattutto legato alla costruzione di relazioni di fiducia con quelli che poi possono diventare donatori sostenitori siano essi privati cittadini aziende o fondazioni bancarie e la fine dell'intervento vi voleva mostrare quali sono oggi alcuni degli strumenti che le organizzazioni non profite e quindi anche le donne che fanno in qualche modo attività all'interno del terzo settore hanno a disposizione per in questo caso trovare risorse e l'idea era presentarvi anche una recente iniziativa lanciata dal centro servizi per il volontariato che permette alle organizzazioni del territorio di lanciare delle campagne di crowdfunding quindi usando uno di questi strumenti che abbiamo imparato a conoscere molto di più negli anni della pandemia che ha a che fare con il coinvolgimento di grandi numeri di persone che possono sostenere attraverso la rete attraverso il web cause o progetti o organizzazioni che stanno loro a cuore che rispondono in qualche modo ai bisogni espressi dai territori quindi ecco l'idea era quella di farvi vedere anche uno strumento semplice efficace a costo zero e a rischio molto basso che abbiamo oggi a disposizione per fare impresa all'interno anche del terzo settore direi che mi fermo qua e speriamo di poter avere un altro momento per approfondire questo tema con la tecnologia dalla nostra parte grazie 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 Mariana cercherò anche io brevemente di fare una presentazione circa quello che sarebbe stato il tema del mio intervento che era un tema piuttosto tecnico perché questa sera avrei parlato di investimenti e quindi la proiezione mi è assolutamente indispensabile quindi non vi parlerò naturalmente di questo cerco di ripercorrere il percorso per chi c'era delle ultime due sedute che abbiamo fatto dove abbiamo parlato dell'importanza della consapevolezza finanziaria mi dispiace per chi era già presente ma insomma ripercorreremo come dire il percorso logico che ci avrebbe portato questa sera a parlare di investimenti durante la prima serata infatti vi ho parlato dell'importanza di cominciare ad occuparsi delle proprie finanze perché io faccio questo lavoro sono consulente finanziario per chi non lo sa da 36 anni e mi occupo di assistere le persone le famiglie e anche delle imprese nella gestione si dice consapevole dei propri patrimoni spesso la mia figura è interpretata come quel professionista che aiuta i ricchi a diventare ancora più ricchi in realtà quando si parla di patrimonio non necessariamente da difendere non necessariamente si parla di patrimoni ricchi nel senso più classico del termine ancora avere un panfilo o un castello nella loira per avere un patrimonio che necessita di una consulenza di un consulente anche avere un'attività improprio avere la prima casa avere un TFR maturato avere dei flussi avere due case avere dei risparmi tutti in realtà abbiamo bisogno di occuparci in modo consapevole delle proprie finanze cosa vuol dire consapevole informato sapendo quello che si fa e quello che si vuole ottenere soprattutto il rischio che si corre a non farlo sono particolarmente felice di mettere come dire al servizio della comunità tanta esperienza perché io in tanti anni ho visto purtroppo che le donne si rifiutano di occuparsi di questo argomento delle proprie finanze perché lo ritengono un argomento da uomini pensano che si tratti di numeri pensano che si tratti di grafici e lo rifiutano proprio a priori tutti l'italiano in genere non è un grandissimo investitore è un grande risparmiatore un accumulatore seriale ma non è un grande investitore nel senso che non lo fa proprio in modo consapevole accumula accumula case soldi in conto però non ha come dire la consapevolezza che il denaro deve avere un motivo per essere accumulato deve avere un obiettivo no e quindi a maggior ragione dopo tanti anni in cui io parlo con gli uomini quando vanno nelle famiglie marito e moglie io 90% parlo col marito ma non sempre perché il marito o il compagno che sia impedisce alla compagna di farlo ma perché spesso proprio siamo noi donne a voler delegare perché riteniamo che sia un compito come quello di andare a fare la spesa accudire i figli lo mettiamo al pari di qualsiasi altro compito e quindi nell'ottica della delega io faccio questo tu fai quello in realtà l'esempio che mi piace sempre fare è che occuparsi delle proprie finanze è un po' come occuparsi della propria salute perché è una cosa estremamente personale quando ci si occupa della propria salute si fa una curata prevenzione si fa uno screening ok si va dal medico si fa l'anamnesi si fa uno screening si dice in famiglia quali sono i problemi si fa una prevenzione ed eventualmente una cura così si dovrebbe fare con i propri risparmi perché la cosa importante è occuparsi in modo prospettico dei risparmi non pensare solo ad accumulare e al qui e ora l'altra volta abbiamo visto che la prima regola è alzare lo sguardo e ragionare in modo prospettico cioè cercare di ragionare nella linea del tempo e darsi degli obiettivi per costruire patrimoni in equilibrio in equilibrio non significa grandi patrimoni significa patrimoni resilienti cioè capaci di essere rimanere solidi e stabili anche nelle avversità che possono succedere nella vita l'abilità sta nel saperle prevedere e prevenire e non è difficile o meglio è difficile ma non è impossibile perché se ognuno di noi fa un'accurata analisi della propria vita delle proprie proprietà dei propri flussi dei propri hobby riesce a fare uno screening ad esempio dei rischi potenziali che corre e quindi fare un'accurata prevenzione rispetto agli avversità che possono succedere perché l'equilibrio patrimoniale è per prima cosa resilienza nei confronti degli imprevisti la prima regola del buon risparmiatore infatti è quella di proteggersi dai rischi perché è inutile fare grandi progetti con i propri soldi se non si è accuratamente protetti perché perché se io non mi proteggo da eventuali rischi rischio che quando mi capita l'imprevisto che potrebbe in qualche modo essere stato previsto io debba distrarre risorse che avrei potuto invece e che ho magari programmato per un obiettivo quindi la prima regola per un buon investitore è quello di proteggersi dai rischi con un'accurata mappatura che lavoro faccio quanti anni ho che proprietà ho ho acquistato una casa con un mutuo devo assicurarla sono un lavoratore autonomo devo assicurarmi in caso di invalidità per esempio perché non riesco più a lavorare devo coprire le mie cose i miei cari i miei flussi quindi prima regola del buon risparmiatore è coprirsi dai rischi una volta fatto questo le risorse che come si fa a coprirsi dai rischi scusate non l'ho detto con delle adeguate polizze assicurative perché le assicurazioni esistono per questo sono società che sono nate per assumersi i rischi che noi gli vogliamo trasferire attraverso delle polizze di assicurazione evidentemente pagando dei premi in questo modo io libero risorse non è più necessario che io tenga una grande liquidità disponibile per gli imprevisti perché mi sono coperta una volta coperta dagli imprevisti posso fare programmazione perché l'equilibrio patrimoniale si ottiene quando ho un'accurata protezione e un'accurata programmazione la programmazione che deve essere il più accurato possibile l'altra volta abbiamo visto la prima regola della programmazione è quella come dicevo di ragionare in prospettiva alzare lo sguardo percorrere la linea del tempo e vedere tutte quelle circostanze che nella vita vorrei o potrei aver bisogno di una risorsa faccio degli esempi lo studio dei figli mandarle all'università acquistarmi una casa avviare un'attività aiutare i figli come dicevo o semplicemente risparmiare per avere una terza età al sicuro perché noi dobbiamo anche renderci conto che lo stato in cui viviamo perché noi abbiamo un po' un appannaggio culturale di uno stato welfare dove il welfare era garantito i nostri padri non avevano questo problema perché sapevano che a una certa età avrebbero raggiunto la pensione avevano comunque l'assistenza sanitaria garantita e quindi era un mondo un po' più di certezze rispetto a quello attuale oggi non è più così certe mancanze come dire del nostro stato che sappiamo pian pianino sta erodendo sicurezza dobbiamo soperirle noi con un'adeguata programmazione quindi linea del tempo tutte le circostanze che voglio ottenere e darmi degli obiettivi gli obiettivi che l'altra volta abbiamo detto devono essere smart se vi ricordate per chi c'era è un acronimo inglese che significa specifici cioè bisogna dare un nome e cognome ad ogni obiettivo università dei figli acquisto seconda auto avvio attività quindi specifici nome e cognome e gli obiettivi quindi creare tanti cassetti ideali misurabili mi devo dare anche l'importo università dei figli 15.000 euro raggiungibili ma non come dire il giusto equilibrio tra l'ambizioso e il raggiungibile non deve essere troppo ambizioso perché se mi do come obiettivo di acquistarmi una villa in Costa Smeralda e sono un lavoratore dipendente è talmente ambizioso che non mi ci metto neanche però deve essere stimolante perché si fa fatica a mantenere un progetto no? e soprattutto deve avere una deadline deve avere una data io devo darmi una data per raggiungimento degli obiettivi altrimenti tendo a procrastinare siccome si fa fatica a risparmiare per un obiettivo se io non mi do una scadenza comincio domani è così l'atteggiamento è questo quello della procrastinazione il professor Rubaltelli probabilmente ce lo spiegherà è uno degli atteggiamenti quando si fa fatica a fare qualcosa e non hai una scadenza la comincio domani la comincio domani no devo darmi una linea del tempo devo darmi un orizzonte temporale primo perché così non sono tentato di procrastinare secondo perché così posso sfruttare quegli investimenti quegli strumenti finanziari che sfruttano la leva del tempo perché se io ho un obiettivo ho un figlio che ha 5 anni e voglio risparmiare per la sua università quanti anni ho? ne avrò 15 10 15 davanti in 10 15 anni se io scelgo gli investimenti giusti riesco ad aiutare e questi miei risparmi ad aumentare un po' di più perché? perché ci sono gli interessi composti ma non solo perché esistono degli investimenti che con il tempo statisticamente rendono di più ecco che a darmi l'orizzonte temporale mi aiuta a liberarmi dell'ossessione del qui e ora ma cosa rendono oggi cosa devo fare oggi ma mi come dire oriento ad un orizzonte lontano questa sera infatti vi avrei fatto vedere quali sono quegli strumenti che in un'ottica di lungo periodo che convenzionalmente in finanza il lungo periodo è dai 5 anni in poi quali sono gli strumenti a mercato che mi consentono di far fruttare i miei risparmi e quali sono questi strumenti non me lo posso dire perché mi mancano le slide ed è una cosa un po' troppo tecnica però lo faremo in un'altra in una successiva seduta la cosa importante è che questi strumenti che esistono spesso siccome la parte del denaro è un po' come la parte della salute è una cosa viscerale si crede che sia una cosa razionale in realtà parlare dei propri soldi io dico sempre io le persone le conosco quando comincio a parlare dei loro soldi perché prima hanno un'apparenza quando comincio a parlare del loro portafoglio si rivelano lo dico sempre per quello che sono insomma perché è una parte viscerale è un po' come parlare veramente della propria salute perché è una cosa che riguarda la pancia non tanto la testa le scelte non sono quasi mai razionali che riguardano il nostro patrimonio ecco perché presento il professor Rubaltelli che è psicologo che vi parlerà meglio di me di questo tema grazie buonasera è arrivato lo psicologo non so se siete preoccupati quindi la prima cosa che vi dirò prima ancora di presentarmi o di dirvi esattamente cosa faccio è che non sono quel tipo di psicologo quindi state tranquilli non vi chiederò dei vostri sogni o cose di questo genere sono professore associato al dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione qui all'università di Padova e mi occupo di decisioni in particolare decisioni economiche cioè perché prendiamo certe decisioni che come diceva Roberto giustamente non sono sempre razionali poi la razionalità la si può definire in molti modi ma insomma diciamo facciamo finta che siamo tutti d'accordo sulla razionalità economica non seguiamo queste regole che gli economisti ci hanno dato che in teoria ci dovrebbero far vivere tutti felici e contenti guadagnare un sacco di soldi probabilmente litigare molto perché la gente razionale è molto egoista quindi non pensa agli altri non pensa all'altruismo le terze missioni insomma quindi in realtà una cosa che è importante sapere è anche che quelli che a volte noi prendiamo come errori che il nostro cervello fa nel prendere le decisioni in realtà sono delle belle cose siamo altruisti quando in teoria qualcuno ci dice che non dovremmo esserlo e siamo anche molto flessibili cioè il nostro cervello si adatta alle situazioni in maniera flessibile anche se non ha le informazioni lui si inventa una conclusione qualcosa in qualche modo ci saltiamo sempre fuori come si suol dire no? e quindi questo è molto molto utile in tante situazioni però non è l'ideale in altre e quando noi gestiamo i nostri soldi di solito come diceva Roberta dobbiamo fare un piano e dobbiamo avere la capacità di resistere ai nostri impulsi se qualcuno investe i propri soldi quando il mercato crolla o quando le cose non vanno tanto bene telefona il consulente telefona Roberta per esempio e dice ma insomma sta perdendo tutti i miei soldi cambiamo il portafoglio magari invece è meglio stare tranquilli dire ho un'ottica lunga c'è il tempo di recuperare vediamo cosa succede cambiamo qualcosa ma non vendiamo tutto quindi quello che vorrei fare oggi io ho molta facilità nel dilungarmi troppo potrò andare avanti fino a domani mattina cosa che non penso nessuno voglia senza slide poi è veramente non l'ideale andare avanti fino a domani mattina quindi vi farò alcuni esempi di questa irrazionalità poi vi farò una domanda un piccolo problema da risolvere e vediamo se lo risolvete giusto se lo risolvete sbagliato siete come i dottorandi di Harvard di economia di finanza quindi ci può stare no? non è così grave e poi vi spiego cosa sta dietro a quel problema un paio di esempi io avrei voluto partire con una teoria che è una teoria dei contimentali perché in parte si attaccava diciamo agli strumenti di cui vi avrei parlato Roberta e la teoria dei contimentali è molto semplice cioè magari oggi voi avete delle risorse economiche sufficienti diciamo per fare una vita che vi soddisfa si spera però quando eravate giovani magari eravate più in ristrettezza economica i miei studenti ancora oggi che magari non sono di Padova quindi devono pagare gli affitti hanno una famiglia normale poi sapete che adesso a Padova gli affitti costano uno sproposito per cui molti studenti abbiamo studenti Erasmus dall'estero che sono dovuti tornare a casa dopo un mese che stavano in albergo e hanno detto questo Erasmus è un po' non è esattamente come volevamo purtroppo è successo quindi quando non si hanno grandi libertà economiche diciamo magari si ha a casa dei vasi dove si mettono i soldi questi mi servono per la benzina e la macchina le bollette la spesa questi sono i conti mentali nella vostra testa c'è esattamente la stessa cosa quindi un primo esempio per dimostrarvi come funzionano i conti mentali è questo è stato fatto uno studio ormai nel lontano 1985 dove c'erano due gruppi di partecipanti ad un gruppo è stato detto che stanno andando a teatro immaginiamo il biglietto costa 50 euro arrivi davanti al teatro e ti accorgi che hai perso una banconota da 50 euro per fortuna ne hai un'altra cosa fai? compri lo stesso il biglietto del teatro in questo caso l'80% di quelli che rispondono mi dico certo sono venuto al teatro non compro il biglietto non sono venuto per niente al secondo gruppo hanno detto stai andando a teatro il biglietto costa 50 euro arrivi al teatro e scopri di aver perso il biglietto il biglietto non era numerato nessuno sa che avevi comprato il biglietto per fortuna 50 euro nel portafoglio cosa fai? compri un altro biglietto metà delle persone quindi c'è un decremento del 30% metà delle persone dice no non ricompro il biglietto non spendo due volte per lo stesso biglietto questa cosa fa impazzire gli economisti perché in un caso avete perso 50 euro ne avete spesi 50 in totale sono 100 in un caso avete perso un biglietto da 50 euro di valore spendete altri 50 sono 100 quindi alla fine della serata avete speso 100 euro per il teatro quindi la decisione che voi dovreste prendere è vale la pena spendere 100 euro per questa opera al teatro se non vale la pena non vale la pena in nessuno dei due casi se vale la pena vale la pena in tutti e due i casi cosa succede? che la banconota che avete perso non aveva scritto sopra banconota che userò per il teatro quindi potete usare una scusa qualsiasi questa è un'altra cosa il nostro cervello è molto bravo a trovare delle scuse per giustificare come con la con la torta in frigo quando siamo a dieta che è stata una giornata molto difficile molto impegnativa ho fatto tanta lezione ho studiato quello che è ho lavorato duramente quindi siccome ho letto sul giornale che anche il cervello consuma calorie allora posso mangiare la torna nell'altro caso avete perso il biglietto per cui avete perso qualcosa su cui c'era scritto effettivamente ehi sono i soldi del teatro e quindi usare di nuovo 50 euro significa spendere il doppio nel conto mentale del tempo libero per esempio e questo vi dà fastidio quindi i conti mentali in realtà sono utili in un certo senso e si possono usare anche per fare dei piani di investimento a obiettivi sono utili per mantenere il controllo ok cioè se io esco a cena tutte le sere della prima settimana del mese poi magari dico esco meno perché ho speso tanto per le cene però ci limitano nel momento in cui in realtà abbiamo un budget magari abbiamo delle risorse per cui possiamo dire vabbè adesso arriva Natale saremo fuori a cena continuamente vedere amici che non vedevano da un anno eccetera posso andare a cena più spesso magari mi trattengo su altre spese invece noi dividiamo in maniera abbastanza impermeabile questi conti guardate bene che le aziende fanno la stessa cosa hanno il budget per la ricerca e sviluppo perché perché è la testa dell'uomo che ha creato il sistema di budgeting delle aziende il secondo esempio è ancora più semplice in America hanno mostrato ma abbiamo dei dati anche qua poi magari ve li racconto un attimo però hanno mostrato che le persone pensano che avere 20 banconote da un dollaro siano più soldi che una banconota da 20 dollari che ancora è assurdo perché se c'è una cosa che veramente non è soggettiva è il numerino che c'è scritto sopra le banconote ok ma avere 20 banconote mi fa sembrare che sia meglio in Italia per esempio è stato dimostrato in un lavoro che abbiamo fatto anni fa che diamo più valore a una banconota piuttosto che a una moneta dello stesso valore noi per motivi sperimentali abbiamo usato banconote dal valore di 4 TOG che è una valuta che ci siamo inventati volevamo eliminare ogni esperienza reale però l'idea qual era? l'idea famosa dell'1-2 euro in moneta ok che noi adesso buttiamo dentro le macchinette del caffè come se non ci fossero domani ma che se ci ricordiamo quando c'era la lira sono soldi quindi in quel caso lì no un ex ministro delle finanze che disse che era una cosa magari si poteva evitare questa mossa probabilmente aveva ragione poi bisogna anche ricordarsi che ovviamente il cambio euro moneta nazionale era diverso in vari paesi d'Europa per cui magari in altri paesi era diverso ok quindi questo è per dirvi che noi abbiamo un intuito al quale sono legate anche le emozioni che ci dà delle risposte che a volte sono giuste a volte sono sbagliate ma che vengono in automatico ok ci aiutano molto perché non dobbiamo pensare abbiamo perso il biglietto e che cavolo no allora non pago per un altro biglietto no non è che pensiamo ah sono 100 euro o cose di questo genere in automatico ci viene e invece quello che Roberta vi spiega e che vorrebbe dirvi è che ogni tanto bisogna fare un'analisi allora noi anch'io nel mio lavoro ma soprattutto lei che lavora sulle decisioni vere delle persone nella realtà con i soldi veri può aiutarvi a semplificare le decisioni che richiedono una valutazione analitica ok oppure affidarvi a lei fa sì che non dobbiate studiarvi un corso di finanza ok no è come andare dal medico non è che vi studiate non vi iscrivete a medicina prima di andare al medico anche se a volte magari il sospetto di dover scusate di dover studiare un po' di medicina magari verrebbe ok allora per mostrarvi questa interazione tra l'intuito e l'analisi vi chiedo di rispondere a questo piccolo problema immaginate di avere una racchetta e una pallina da tennis ok qualcuno di voi potrebbe averlo già sentito se lo conoscete già silenzio allora una racchetta una pallina da tennis che costano 11 euro insieme ok la racchetta costa 10 euro più della pallina quanto costa la pallina quanto chi ha per un euro alzi la mano ok chi ha per 50 centesimi ed è 50 centesimi ma questo questo è il problema che vi dicevo anche gli studenti della MBA di Harvard sbagliano ok è costruito apposta perché molti sbaglino ok quindi se avete detto un euro siete cioè proprio siamo in tanti ok la prima volta che l'hanno fatto a me l'ho sbagliato anch'io se voi fate i conti se la pallina costa un euro la racchetta ne costa 10 10 meno 1 fa 9 quindi la differenza è 9 euro ma se la pallina costa 50 centesimi e la racchetta costa 10,50 la differenza è 10 euro ok allora questa domanda ce ne sono varie perché poi gli psicologi gli piace così torturare mentalmente i loro soggetti però è importante perché la domanda è costruita per ingannare il vostro intuito e solo se voi vi mettete a fare il conto alla rovescia no cioè dite ah è un euro facciamo i conti vediamo se è veramente un euro allora ci arrivate in questo caso specifico qui e adesso se voi avete sbagliato probabilmente non è perché non sapete risolvere questo problema non è nemmeno perché è difficile è perché non avete un incentivo a rispondere correttamente ok cioè non è un esame quindi non c'è nessuna punizione o nessun problema se rispondete sbagliato e non vi cambia la vita ok quindi in realtà davanti a una domanda così abbastanza semplice se fosse un investimento soldi che sono importanti per la vostra vita riuscireste a rispondere correttamente il problema è che quando fate gli investimenti i calcoli che dovete fare sono molto più complicati e quindi se già non ci impegniamo per una cosa così semplice figurarsi per una che è complicata che magari di cui non siamo esperti ok quindi adesso concludo perché non voglio andare troppo troppo in là ma questo è quello che studia la psicologia della decisione in campo economico anche in altri campi noi ci siamo sentiti molto in colpa quando è arrivato il covid perché siccome studiamo anche la percezione del rischio che è un'altra cosa soggettiva cioè alcuni di noi si butterebbero col paracadute altri non ci penserebbero neanche quando è arrivato il covid qualcuno si è chiuso in casa prima ancora del lockdown altri hanno detto beh non è un'influenza e andavano in giro liberamente senza sentirsi particolarmente preoccupati allora gli psicologi italiani almeno quelli che studiano la percezione del rischio hanno detto wow abbiamo un esperimento vero dove non mettiamo la gente in laboratorio non dobbiamo creare niente c'è una situazione reale dopo le cose sono arrivate a un livello in cui sì lo studiavamo ma insomma non era molto divertente lo studiare però quella è un'altra situazione la percezione del rischio è un altro aspetto dove c'è molta soggettività quello che piace a me quello che mi dà delle belle sensazioni anche se è rischioso non è quello che piace a qualcun altro stessa cosa quello di cui io ho paura magari io sono ipocondriaco ho paura di tutte le malattie del mondo e altri invece non hanno neanche i farmaci in casa in bagno perché dico vabbè poi se mi viene la febbre comprerò tachipidina ok quindi per concludere quello che volevo dire è che è molto importante studiare l'educazione finanziaria tra l'altro l'Italia è messa parecchio male in educazione finanziaria e le donne sono messe peggio degli uomini ma gli uomini sono messi male anche loro non c'è proprio eguaglianza diciamo in questo caso però nel male siamo tutti messi maluccio perché non si insegna a scuola cioè secondo me l'educazione finanziaria o una matematica un po' più applicata alla realtà della vita andrebbe insegnata a scuola però se non si conosce il modo di funzionare del cervello questi errori sistematici che facciamo anche l'educazione finanziaria può non essere abbastanza ok perché esattamente come la dieta io so che devo ottenere il mio piano di investimento quando le cose cominciano a traballare un po' perché ho un piano a lungo termine la crisi è momentanea e però se non so come le mie emozioni il mio intuito eccetera influenzano le mie scelte rischio di non riuscire a portare avanti il mio piano quindi le due cose vanno insieme e infatti quello che penso io ma penso molti colleghi che si occupano delle stesse cose mie è che a scuola bisognerebbe insegnare anche come si prendono le decisioni e capire cosa influenza le nostre decisioni molti di noi pensano che le decisioni sono completamente consapevoli anzi più importanti sono e più sono consapevoli e che pensiamo e che analizziamo i pro e i contro e arriviamo a una decisione in parte è vero ma c'è sempre qualcosa di inconsapevole di emotivo che entra in gioco e tra l'altro io non ho il tempo di dirvelo però sappiate che ci sono studi su pazienti con lesioni ai lobby frontali che perdono la consapevolezza delle loro emozioni e vivono malissimo ok quindi quando andate a letto la sera magari non riuscite a dormire perché avete dei pensieri in testa che vi danno fastidio potete prendervela con i vostri lobby frontali che sono questi ok perché noi abbiamo la fronte più dritta dei nostri antenati ed è perché i nostri lobby frontali sono più grandi sono delle aree associative che associano appunto le sensazioni più profonde con i nostri pensieri la capacità di anche metacognitiva cioè di pensare a quello che pensiamo a cosa hanno perché quell'altro ha fatto quella cosa lì quindi accettate che a volte non si riesce a dormire per questo però la vita è migliore avendo la consapevolezza delle emozioni e le emozioni possono essere un'informazione che il nostro cervello usa quando non ne ha altre quindi nei mercati finanziari saper capire quello che sentiamo può aiutare abbiamo un leggero fastidio perché le cose non vanno tanto bene o siamo terrorizzati ok se siamo terrorizzati anche se il piano magari è buono magari chiamiamo Roberta e vediamo insieme a lei cosa si può fare magari lei ci tranquillizza oppure ci dice vabbè facciamo questi cambiamenti e va bene lo stesso ok però appunto l'assenza di emozioni in realtà in realtà le aree frontali sono anche le aree della pianificazione quindi chi ha queste lesioni non solo non ha consapevole le proprie emozioni ma non riesce a pianificare ma le due cose vanno insieme cioè pensate se avete un'importante riunione no uscite prima perché perché avete paura di arrivare in ritardo di fare brutta figura quindi non è un'analisi che avete fatto è che avete imparato col tempo magari i vostri genitori mi hanno detto un sacco di volte guarda che se arrivi in ritardo sarrabbile e non volete arrivare in ritardo perché è importante per voi magari un'altra volta con i vostri amici del cuore anche se arrivate dieci minuti in ritardo e dite scusate c'era traffico e loro capiscono ok quindi questo è più o meno quello di cui ci occupiamo spero che sia interessante è un po' diverso dalla psicologia classica però insomma penso che abbia delle applicazioni molto molto importanti ci sono tante altre aree che non abbiamo tempo di vedere adesso insomma magari ci sarà un'occasione futura grazie mille ecco sì se qualcuno vuole fare domande possiamo utilizzare questo tempo che c'è avanti scusate riprendo nuovamente il microfono per chi ci avesse ascoltato sulla parte relativa alla povertà energetica stanno pubblicando il QR code con un breve questionario brevissimo che vi chiediamo cortesemente per chi fosse collegato da casa di compilare che ci permetterà di capire quali sono le tematiche di maggiore interesse per le prossime serate o momenti comunque che avremo con la cittadinanza e così ci focalizziamo sugli argomenti che sono più più interessanti per tutti insomma grazie riprendo il microfono perché se qualcuno volesse fare delle domande visto che abbiamo tempo e spazio ben volentieri su tutti gli argomenti poi adesso io ho scritto all'ufficio sale del comune chiedendo di ridarci un altro momento un'altra sala per riprendere questo però comunque io penso che manderemo le slide comunque alle persone comunque manderemo tutta la registrazione perché ce la stanno chiedendo io stavo rispondendo alle mail prima quindi stavo cercando di spiegare appunto che c'erano stati questi problemi tecnici e io volevo chiamare intanto le ragazze dell'opposto della violenza che mi hanno contattato anche loro sempre a proposito di rete io con loro un mese fa o mi sa eravamo in comune a Padova e perché è stato presentato un libro tra l'altro proprio sulla violenza e loro hanno fatto anche lì una come si può dire un piccolo spettacolo una performance e loro stanno girando anche nelle scuole sono stati a Pianiga a Vigonza e hanno fatto fare ai ragazzi una cosa che adesso non vi anticipo perché vi lascio la parola a voi così vi presentate a tutti grazie io sono Federica lei amabile noi siamo parte del gruppo l'opposto della violenza che è un gruppo informale cerchiamo attraverso l'arte danza recitazione pittura meditazioni di portare un momento di serenità di tranquillità a tante persone che non riescono più ad integrarsi con gli altri quindi non solo a chi ha delle difficoltà ma anche semplicemente a chi è interessato e attraverso questo creiamo una rete che porta le persone a cercare proprio di uscire di trovare serenità si sente tanto parlare di violenza ma c'è bisogno a volte anche di far capire che c'è un opposto alla violenza quindi qualcosa di positivo siamo attive già da tempo qua nel comune di Padova con altre associazioni e collaboriamo tantissimo con la realtà del comune di Padova che è il portierato di quartiere 4B nel quartiere Guizza dove proponiamo spesso eventi gratuiti aperti alla comunità quello che facciamo è creare rete con altre associazioni presenti nel territorio quindi le persone che magari vengono da noi per partecipare ad uno stage di danza poi capiscono che abbiamo contatto con altre realtà e fanno emergere dei problemi abbiamo infatti realizzato anche delle conferenze esempio sul bullismo e cyberbullismo e si crea rete noi crediamo tantissimo a questa unione di mani che costruisce una rete solida che può portare veramente a qualcosa perché tante volte sono utilissime tante parole ma c'è proprio necessità di scendere sul campo di scendere per strada magari qualcuno passa in centro a volte e ci trova a ballare in strada sull'Estone siamo là perché crediamo che l'arte vada portata sì nei teatri per chi può pagare il biglietto ma anche nelle strade per chi tante volte non ci pensa neanche all'arte e magari si ferma incuriosito ci guarda e respira a cinque minuti di serenità quindi se ci trovate in strada è per questo siamo là per portare gioia alle persone che passano e siamo qua e ho contattato Michela perché stiamo portando avanti questo progetto del quale poi magari lascio la parola ad Amabile è un flash mob che si chiama sempre viva e cedo la parola anche ad Amabile perché siamo le due menti crediamo cioè crediamo che è bello parlare tutti e due così lascio un po' la parola anche a lei ok grazie buonasera a tutti niente perché il flash mob perché già la parola flash no abbiamo scelto questo tipo di comunicazione una delle tante che abbiamo scelto ma abbiamo scelto anche questo tipo di comunicazione perché perché vai in un luogo pubblico c'è tanta gente e crei un qualcosa all'improvviso che la gente si ferma dice oh che succede ecco perché il flash mob e abbiamo scelto anche una canzone a tema come diceva la Federica sempre viva che abbiamo portato anche all'interno delle scuole abbiamo lavorato con i ragazzi spiegato il perché del flash mob e cos'è e anche studiato proprio le parole della canzone e i gesti sono gesti semplici ma di effetto e molto comunicativi anche esempio anche questo può essere semplice ma a volte quante volte ci si gira non voglio vedere la violenza non voglio vedere quello che c'è che c'è attorno non voglio neanche rendermi conto che c'è della violenza e quindi sono gesti che portati in un ambiente come in una piazza e all'improvviso alla gente un qualcosa gli suscita un'emozione ecco quello che facciamo noi con il flash mob ma facciamo tante altre attività tipo a breve il 14 giusto ci sarà anche una meditazione che offriamo gratuitamente alle persone con gli strumenti e quindi anche motivo di rilassarsi e di fare comunità grazie un attimo che mettiamo con i potenti mezzi della tecnologia la musica sempre per il solito problema tecnico i gesti che andremo a fare ora sono molto semplici se qualcuno vuole anche partecipare noi volentieri vuoi far vedere faccio vedere io magari un po' visto che tanto lo condividiamo perché la nostra idea è quella che diventi un motto di tante donne che venga diffuso un po' in giro quindi se poi volete andare per strada all'improvviso e mettervi a ballare potete farlo da noi di tante donne se poi bare eda poi abbiamo Questa breve sequenza che si ripete nella canzone, ci sono altri passi significativi, ma insomma questo di base è un ritornello che si ripete spesso sulle strofe di sempre viva. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!